Fateci uscire! Forza, adesso! Perché non ci aprite? Non ne uscirete mai! Non avreste dovuto rubare i diamanti! Esatto! Agente, vado a mangiare qualcosa, ok? Sì, ma prendi delle ciambelle! Niente ciambelle per oggi! Mangeremo delle sane verdure! Ma io voglio le ciambelle! Niente ciambelle oggi! E per favore, tieni i diamanti! Fai attenzione, ok? Va bene! Ehi, 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 hai visto? Certo! E sai? Ho proprio un grande piano! E qual è? Ehi, vi sto guardando! Ehi tu, agente di polizia! Sì? Che cosa vuoi? Vuoi delle ciambelle? Ma certo, dammi delle ciambelle! Questa è la mia occasione! Beh, grazie per le ciambelle! Ora posso mangiare le ciambelle! L'hai presa la chiave? L'hai presa la chiave? Certo che l'ho presa! Mmm, deliziosa! Gustosa! Oh no, sono scappati! Ehi, ho portato un buon pranzo sano! A mio capo non piacerà questo! Che sta succedendo? Perché sei triste? I prigionieri sono fuggiti! Oh no! E hanno anche i diamanti! Non preoccuparti! Hanno i diamanti finti! Questi sono i veri diamanti! Hanno i diamanti falsi! Oh sì! Dammi il cinque! Ecco il cinque! Ora ci serve un bel piano! Io ho una buona idea! Andiamo! E questa volta li prenderemo per sempre! Sì! La polizia se n'è andata! Allora fermiamoci, forza! Controlliamo i diamanti! Cosa? Sono falsi! Oh no! No! Ok! Allora, questo è il mio piano! Tu metti i diamanti qui sotto e io prendo i detenuti! Va bene! Ecco fatto! Questo è geniale! Ok Jason! Ora aspettiamo i ladri! Torniamo a prendere i veri diamanti! Sì! Questa volta li prenderemo! Prenderemo questi diamanti! Sì! Li prenderemo! Guarda! Ecco i diamanti! Prendiamoli! Oh no! Oh no! Li abbiamo presi, sì! Li abbiamo presi, sì! E vai! Oh no! Li abbiamo presi, sì! Prendiamoli, Jason! Li abbiamo preso, ragazzi! In prigione! Li porto lì adesso! E questa volta non sfuggirete dalla prigione! Esatto! Oh no! Ci hanno preso di nuovo! Così non ruberete più i nostri diamanti! Sì! Ve lo siete meritati! Oh no! Fateci uscire! Oh no! 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 Ehi! Ragazzi! Perché continuate a distruggere le macchine? È colpa sua! No! È colpa sua! No! È colpa sua! È sua! È sua! È sua! È solo colpa sua! So qual è il problema! I segnali stradali! Via dalla strada! Farò dei cambiamenti qui! Forza! Scendete! Scendete via! Forza! Metterò dei segnali stradali sulla strada! Già! Qui devi girare a destra! Qui invece ti devi fermare! Stop! Qui bisogna fare attenzione ai bambini! Questo è un attraversamento pedonale! Fate attenzione! Prego! Così va molto meglio! Possiamo continuare! Possiamo guidare di nuovo! Ok! Potete guidare di nuovo! Vai attenzione! Potrebbero esserci delle bici! Vai piano! Attenzione! Potrebbero esserci delle bici! Vieni da questa parte! Piano! Bene! Ci sono dei bambini! Vai piano! Piano! Bambini! Mmm! Ok! Vieni da questa parte! Vieni! Fermo! Fermo! Questa signora vuole attraversare! Grazie! Puoi andare! Vai! Ottimo lavoro Jason! Forza! Ok! E adesso è il tuo turno di guidare! Evviva! Ok! Fai attenzione! Ci sono lavori in corso! Attenzione! Vieni! Vai piano! Piano! Avanti! Avanti! Ferma! Un bambino attraversa! Ok! Ora puoi andare lentamente avanti! Ok! Grazie! Vieni pure! Bene! I segnali hanno aiutato! Il mio lavoro è finito qui! No! 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 Fermi! Fermi! Oh no! Come è possibile? Fammi vedere la patente! Io non ho la patente! Cosa? Non hai la patente? No! No! Devi andare alla scuola guida! Scendi dalla macchina! Forza scendi! Adesso! Lei invece ha la sua patente? No! In realtà non ce l'ho! Scendi dalla macchina! Anche lei andrà alla scuola guida! Forza scenda! Sapete che c'è? Andremo tutti alla scuola guida! Sono la polizia stradale! Che bella giornata! Ehi! Fermati! Fermati! Oh! Mi dispiace! Pronto! Polizia! Ehi! Fermati! Scusi! Aspetto il verde! Anch'io sto aspettando! Ehi! Questi si che sono bravi ragazzi! Mangiamo qualche ciambella! Che cos'è quello? Che cos'è quello? Oh oh! Sì! Ahahahah Ahahahah Niente polizia Ahahahah Dei semafori Ciao ciao Ahahahah Oh 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 Vendo semafori Ahah Sì Sì a metà prezzo Oh buongiorno Salve Sì li vendo A metà prezzo Oh 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 Ottimo Ahahahah Ehi Andiamo a fare un giro in macchina È un'ottima giornata per guidare Andiamo di nuovo a lavorare Bene Ottimo Ragazzi ragazzi È tutto ok Ragazzi no Ferma Oh no Oh no Cosa hai fatto Scusami ma non c'erano i semafori Sì non l'ho visto nemmeno io No no Ragazzi cosa è successo Non vedi non ci sono i semafori Quindi abbiamo fatto un incidente I semafori Vendo semafori Lo so chi è stato C'è un semaforo qui Vendo semafori Vendo se... Oh no No Oh no Oh no Ti ho preso Oh no In prigione No Tornerai in prigione In prigione No Andrai dritto in prigione No di nuovo Vieni forza Fai il bravo No no Per favore No E invece sì Jason ti ha mandato in prigione Ok ok